La Silvigas Avellino non determina continuità dopo lo splendido successo con Milano, cadendo con un brutto secondo tempo sul parquet della Deflex Pistoia. Finale di 67-59 per i toscani di coce esposito, che subiscono in avvio una buona scandone, abile in difesa a controllare le giocate dei padroni di casa e a colpire con Obashoan e Ragland per il 6-13 al quinto. Avellino trova grande impatto con Fesenco e costruisce anche la doppia cifra di vantaggio sul finale di prima frazione. I quintetti sono bloccati da oltre l'arco e su un primo recupero pistoiese la Silvigas risponde con la fuga sul più 14 con i liberi di Thomas legati al tecnico di Roberts. I lupi non approfittano della situazione e chiudono avanti solo di 8 al ventesimo. Il mancato a lungo nel primo tempo regala fiducia alla Deflex, che di minuto in minuto strappa in erzia ad una scandone bloccata. Petoe è leader nella rimonta e nel sorpasso operato dai biancorussi con Crosa Reola al trentesimo sul 43-41. Avellino prova a scuotersi in abbio di ultima frazione e Pistoia guida la gara fino al termine, vincendo con merito e decisione sui fugaci tentativi Irpini. Finale di 67-59 per Pistoia, con Petoe protagonista e negativo nei secondi finali.